Purtata del Daytime numero 57, Occio! Sigla! Allora, io sceglierei Dado perché gira sulla testa, poi però Sami, perché o la ami o la ami, secondo me mi dà anche se non la scelgo. E poi sceglierei... Vabbè, comunque non ha importanza. Andiamo a vedere quali dancer hanno scelto i nostri dreamers. Scelgo Sami! Ok! Tocca a te Simone! Io scelgo Dado! E andiamo! Claudia! Io scelgo Nikla! Simone, tocca a te! Io scelgo Nikke! E infine per te... Io scelgo Chris! E l'ultimo! Io scelgo Chico! E andiamo! Poker Face, Lady Gaga, l'abbiamo vista prima interpretata da tutti i nostri dancer. Ora però tre dancer un dreamer da una parte e tre dancer un dreamer dall'altra devono riballarla. Ho scelto Nikla, Chris e Sami, perché secondo me sono molto bravi. La cosa più importante è che non mi sono dimenticata i passi e quindi secondo me è andata bene insomma. Nella prova di lanta ho scelto Nikke, Giko e Daio, perché mi sono colpiti di più, non lo so, anche tutti gli altri sono bravissimi. però ho scelto loro perché niente aveva loro. E' andata bene, mi sono ricordato per fortuna tutti i passi perché alle prove mi ero andata proprio più che fare. Joe, Eros, Angie, tutto regolare. No, loro sono fuori dal normale perché sono bravissimi, ma tutto regolare è il titolo della canzone che hanno cantato in puntata. Andiamo a risentirla. A casa tutto regolare, l'amore tutto regolare, al lavoro tutto regolare, lo stipendio alla fine del mese. La salute tutto regolare, la realtà tutta regolare, una vita tutta regolare, un futuro certo più sicuro. Vorrei avere un televisore, che manda in diretta un canale migliore, grande è la gioia, poco è il dolore, tutti sintonizzi sul mio cuore. Chiedo scusa, ma non ne posso più, sembra perfetto, ma tutto regolare mi sta stretto. Chiedo scusa, ma non ne posso più, perché scusa se mi diverto di più. Avete visto il tema del music jam di questa settimana? Come no? Rivediamoli insieme. Era arrivato il momento di Music Gate. Music Gate, un tema fantastico, ma ancora più fantastico il music jam che hanno realizzato i nostri dreamers. Tema, music gate, music jam, music gate. C'è sempre music. Gate e jam. Ballare con loro è divertentissimo, perché ti fanno dare casica, ti fanno ballare molto elettrico, ti fanno divertire. Il momento più emozionante è stato quando mi hanno preso, mi hanno messo sulla schiena di Nicola e ho saltato. L'ultimo semifinalista per Music Gate lo decide, come al solito il pubblico, è le sue stelline. Lo faccio bene, sì? Vince questa puntata di Music Gate e accede direttamente alle finali, Simone! Sono contentissimo di cambiare tutto Simone, che è bravissimo. Sono davvero contenta. Poi è troppo simpatico. E' andato tutto bene, eppure se non ho vinto, io mi sono divertito, è stata una bellissima esperienza. Da domani al daytime di Music Gate si parla un'altra lingua. Hey, 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 what's this face, sir? I want to stay in the world, why, sir? Non so le lingue. Comunque si parla un'altra lingua perché da domani si comincia a parlare di semifinali. Prendete i dreamer, quelli che hanno vinto, quelli che hanno perso, qualcuno viene ripescato, qualcuno passa di diritto. L'importante è che io si sono allo stesso. Per fortuna. A domani, daytime. Go! Go! Music Gate! Music Gate!